Una storia letto fine, quella che è avvenuta oggi, domenica 11 marzo, nella zona del parco concertosa Collenio. Una donna stava passeggiando con la sua cagnolina Sara, quando ad un tratto la sua fedele compagna a quattro zampe si è allontanata, avvicinandosi alla riva della Dora e scivolata in acqua. Visto il pericolo, la padrona, nel tentativo di recuperarla, è scivolata anche lei in acqua, riuscendo ad aggrapparsi ad un appiglio. Le urla d'aiuto hanno attirato i fruttori del parco, che hanno avvertato i soccorsi. Primi sul posto, una pattuglia dei carabinieri di Collenio, che, allungando una mano, ha aiutato la signora a rimanere vicina alla riva, fino all'arrivo dei vigili del fuoco, SAF e Croceverde. Tratta in salvo, la donna è stata subito affidata alle cure dei sanitari. Successivamente, i vigili del fuoco e SAF hanno recuperato la cagnolina. La donna ha rifiutato il soccorso in ospedale, illesa alla bestiola. La donna ha rifiutato il soccorso in ospedale, che, allungando una